C'erano dottori che dicevano Non c'è più nulla da fare, riportatelo a casa Invece lui rimaneva accanto alle persone Lottando fino alla fine per salvargli la vita Mio figlio stava per morire Ma padre Ambrosoli l'ha intubato E gli ha fatto il siero E oggi mio figlio è qui, vivo Ci meravigliava come si avvicinava alle persone Non gli interessava da dove venissero Se erano sporche di sangue, se erano ammalate Lui andava loro incontro, le accoglieva e poi le curava Senza mostrare mai nessun imbarazzo, nessuna paura Padre Ambrosoli è stato per noi una personificazione di Dio Della sua generosità, della sua carità Per come si è dedicato a noi Ci ha dimostrato quello che insegna il Vangelo Solo se hai amore nel cuore Sarai benvenuto in cielo Perché tutto il resto non conta Per me, a me, a me, a me Grazie a tutti. 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 È con grande commozione che siamo entrati nella stanza dove padre Giuseppe Ambrosoli ha trascorso i suoi 31 anni qui a Calongo. È arrivato nel 1956. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. dalle suore comboniane e in particolare di suore letta, lo ha trasformato piano piano in un ospedale di più di 300 posti. Con la sua grande capacità, anche costruttiva, si faceva lui i piani di lavoro dei vari edifici. Padre Ambrosoli ha usato le risorse della sua famiglia, della famiglia Ambrosoli per trasformare il dispensario in un ospedale. Senza i fratelli comboniani e senza le suore comboniane, padre Giuseppe non avrebbe potuto realizzare quel mondo di bene che ha realizzato nell'ospedale e poi nella scuola di ostetricia iniziata nel 1959. L'ospedale ha aperto nel 1956, ma a causa della mortalità infantile in quest'area, il padre, dottor Ambrosoli, venne ispirato e avviò la scuola di ostetricia, che venne certificata dal governo nel 1959. La scuola è cresciuta sotto la cura di padre Giuseppe Ambrosoli, supportato da tante sorelle, sorelle comboniane, come suoreletta. Ha lasciato un'eredità a questa scuola, un'eredità d'amore, un'eredità di lavoro duro, d'impegno, eredità di umiltà ed eredità di speranza e fede profonda. E noi lo preghiamo sempre di aiutarci a emulare queste virtù che lui ha sempre mostrato, mentre si curava dei pazienti all'ospedale e forse ancora di più per le studentesse di questa scuola. Io ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con padre Ambrosoli in questo ospedale, in questo posto, per 27 mesi, dal 1983 al 1985. Quello che mi sento dire dopo questa esperienza è che padre Ambrosoli non è stato un eroe solitario, non è stato un superman che è arrivato con i suoi extrapoteri per rivoluzionare chissà che cosa. Anzi, al contrario, la sua forza è stata la sua grande umiltà. Lui è stato soprattutto un catalizzatore, un accordatore, è riuscito a mettere insieme tante energie positive. Quando poi era a Campala, lui veniva a Campala ogni tanto, raramente, per andare al Ministero della Sanità, eccetera. Ciò che si notava in lui era che non perdeva tempo. Veniva, andava a fare il suo lavoro e non ha mai presentato grandi, grossi problemi dicendo ma come facciamo, come si può andare avanti, le spese, eccetera. L'impressione era che aveva una profonda confidenza nella provvedenza del Signore. Lui costruiva veramente fiducia e confidenza con gli ammalati. Basti pensare che molti malati non volevano essere curati da altri se non dal dottore Ambrosoli. Difficilmente lo vedevi stufo. Difficilmente vedevi il dottore Ambrosoli lamentarsi. Quello che mi ricordo di lui era il suo lato umano. Era molto umano. E anche se ci teneva alla parte medica, chirurgica, ma non ha mai fatto, come posso dire, l'intellettualoide. Ecco, anche se all'inizio ci osservava, perché quante volte qualche intervento difficile mi osservava, era proprio un papà che insegnava a come anche imparare a lavorare. E proprio attraverso questa sua abitudine, modo di comportarsi con gli altri, ha fatto sì che l'ospedale fosse veramente, come posso dire, una famiglia. si lavorava, ma con amore. E tutti si impegnavamo, credendo, ma fermamente, che tutto quello che ci facevamo era non solo a beneficio anche, diciamo, dei malati, ma era proprio come in famiglia. Uno spirito di umiltà che io non ho mai visto, che a volte mi faceva arrabbiare, perché esiste un pezzettino, quando doveva cucire le donne, mi sa da parto, un pezzettino di filo, stava lì un'ora, c'era cinque centimetri di filo, ma doveva dare l'ultimo punto con quello lì, perché doveva risparmiare il filo. Uno spirito di povertà, cioè riscontravo in padre Ambrosoli, che non si sa. Aprivi il rubinetto, no, ma forse è meglio che lo apri un po' meno, perché guarda che sì, l'acqua costa e quel che ci va dietro. Poi anche il modo con cui trattare con le mamme, no? Cioè aveva una delicatezza, una carità, un modo di fare, un modo di parlare che non erano, cioè si differenziava dalle altre persone, no? E poi io dico la verità, padre Ambrosoli non l'ho mai visto arrabbiato, per dire che era un po' strano, perché in sala operatoria, in sala parto, tu a volte devi cercare di stimolare le mamme e cercare di salvare il bambino e la mamma, quindi a volte devi essere ferma, ma guarda lui aveva una delicatezza anche in questa che lo faceva, però in un modo che non faceva star male le mamme. Lui non si è mai posto come una persona al di sopra degli altri, aveva una sua autorevolezza che nasceva di per sé dal suo modo di essere. Io in tutto questo tempo non l'ho mai sentito una sola volta alzare la voce in nessuna circostanza, anche di fronte a problemi molto gravi, però qualunque situazione ci fosse, incresciosa, difficile, la sua opinione era quella che alla fine direneva le cose, perché era di per sé autorevole, la sua forza stava nella sua umiltà, nel suo modo di porsi, nella sua autorevolezza che era innata, nasceva dal suo modo di essere. In questa stanza vivono ora i suoi ricordi, i suoi libri di chirurgia, perché fu un grande chirurgo e quindi continuava a distruirsi e a leggere appunto le operazioni sui vari trattati la sera prima di effettuare l'intervento. Ricordo che alcune volte quando ero con lui e mi stavo insegnando la medicina tropicale, la chirurgia tropicale, passavamo dalle mezz'ora insieme sfogliando l'operazione che il giorno dopo sarebbe stata eseguita. Quando sono arrivato a Calongo a gennaio dell'83, lui non era qua, era in Italia per ragioni mediche. Quando è tornato, dopo circa un mesetto, io sono andato insieme a Luciano Tacconi, mi pare anche a Don Donnini, a Gulo, a riceverlo, a prenderlo con la macchina. E siamo arrivati alla missione verso sera e con mia grande meraviglia ho trovato la missione gremita di persone, le campane che suonavano a festa, non riusciva a scendere dalla macchina per la calca che c'era. si era sparsa la voce che padre Ambrosoli stava tornando e la gente si era mobilitata da sola. E quando girevamo per Luganda, da nord a sud, in qualunque posto andassimo con la macchina che ho scritto con Longo Hospital, c'era sempre una persona che chiedeva, padre Ambrosoli, come sta, dov'è, saluti per padre Ambrosoli. Padre Giuseppe ha continuato la sua vita finché il mondo è cambiato anche in Uganda. I ribelli contro il presidente attuale Museveni sono arrivati qui nel nord Uganda, è cominciata la guerriglia e sono cominciati i guai per padre Giuseppe. Quando ci hanno radunato sotto la veranda gli ufficiali ci hanno detto dovete partire, potete restare qui, noi andiamo via, ci hanno detto noi andiamo via e mi ricordo, buon viaggio, e dovete venire anche voi con noi. Io gli ho detto ma perché? Ero giovane, un po' reattivo anche, questa ingiustizia, cos'è sta storia. E ricordo che proprio in quel momento padre Ambrosoli è intervenuto, c'è per calma e subito ha detto ma e i malati? Mentre io pensavo a noi e lui dice e i malati? E noi ci hanno detto i malati facciano loro, chi vuole venire con voi venga, gli altri si arrangino. Sono state ore molto pesanti, eravamo andati in chiesa a pregare eccetera e poi alla sera a letto, io ero in una stanza vicino alla veranda e a un certo punto mi pare di sentire dei passi vicino alla stanza e aspetto un po', poi sento che i passi vanno, vengono e sono uscito ed era padre Giuseppe che andava avanti e dietro con la corona in mano, no? E quando lo viste mi ha detto una cosa al cuore perché insomma sapevo cosa significava per lui tutta sta storia e l'unica cosa che gli ho chiesto è proprio in modo così banale, gli ho detto allora Giuseppe come va? E lui mi ha guardato e ha detto come Dio vuole e poi ha aggiunto quello che Dio vuole non è mai troppo e tornando a letto pensavo che avevo di fronte a me un uomo che aveva dato tutto se stesso per anni e anni per costruire qualcosa che potesse davvero aiutare i malati non solo ma anche le infermiere a acquistare una professione che potesse aiutarle nella loro vita eccetera e che tutto questo almeno dal punto di vista umano e stava crollando e eppure quest'uomo diceva va beh se questo che Dio vuole va bene anche così ecco questa è la cosa che mi è rimasta dentro di più di lui il 12 di febbraio del 1987 padre Ambrosoli con 16 camion che trasportavano i pazienti dall'ospedale e tutta la roba del magazzino lui sperava di salvarla andando all'ira qui a 120 chilometri per poi riportarla qui e ricominciare da capo quello che non sapeva è che nella notte in cui partì arrivati a un certo punto hanno visto nella notte nel buio delle fiamme innalzarsi sul cielo e purtroppo tutti cominciando da lui hanno concluso stanno bruciando l'ospedale nel mese di vita che gli restò nessuno riuscì da Calongo a passare verso l'ira e verso Campala per dirgli padre Giuseppe non ti spaventare l'ospedale salvo hanno bruciato soltanto i magazzini del cibo quindi praticamente questa ferita diciamo psicologica mortale aggravò le sue condizioni di salute era nato con un rene solo e con quel rene viveva gli strapazzi a un certo punto gli hanno rovinato il rene e mentre si trovava nella città di l'ira fu colpito da una malaria gravissima più da insufficienza renale quando io arrivato da Calongo avevamo qui le suore compagnani infermiere e gli hanno detto padre si fermi si fermi perché non sta bene non sta bene e se avevo bisogno di queste dialisi a farlo e qui non c'erano le possibilità non si poteva andare in macchina a Gulu in quei tempi lì era peribito non si poteva viaggiare il padre Tocalli è arrivato da Campala è partito con l'elicottero è arrivato all'una e mezza e proprio quel momento che l'elicottero ha atterrato e lui ha ispirato ci troviamo nel cimitero di l'ira padre giuseppe ambrosoli quando è morto appunto nel 87 27 di marzo era sepolto qui accanto nel 94 sono venuto con l'ambulanza e alcuni infermieri abbiamo scavato e trovato i suoi resti mortali messi in una cassa e siamo andati a Calongo con l'ambulanza arrivando là ci fu un grande trionfo di popolo che lo aspettava ci fu un grande funerale che chi era? che chi era? che chi era? che chi era? ci fu un grandeцosa che era? a un grande trionfo di popolo a un grande trionfo di popolo ma che era? Dopo la sua morte con il ritorno in ospedale di Padre Gidiotto Calli e la famiglia di Padre Giuseppe che è la mia famiglia che ha sempre seguito con attenzione quello che era appunto il suo progetto ci si è posti il problema del futuro di questo ospedale e di questa scuola come avrebbero potuto continuare la propria opera senza la figura carismatica e competente di Padre Giuseppe e le risorse che aveva convogliato intorno a quest'opera e da qui è nata l'idea della fondazione cioè di una organizzazione che potesse andare avanti dopo di lui raccoglierne l'eredità con responsabilità e garantire la continuità dell'attività dell'ospedale e l'attività della scuola di ostetricia. Questo ospedale ha una vocazione importantissima che è quella voluta da sempre dai combognani e da Padre Giuseppe e cioè di rendere accessibili le cure a tutti, a tutti, senza distinzione e soprattutto alle persone più vulnerabili, più fragili, a chi non può affrontare il costo di una cura sanitaria o deve affrontarla a costo di grandi sacrifici che significa togliere i figli dalle scuole o rinunciare ad altri importanti diritti fondamentali. Questo è il reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Calongo è all'incirca a 60 posti letto ricoveriamo qualsiasi tipo di patologia chirurgica dalla chirurgia addominale alla chirurgia pediatrica alla chirurgia ortopedica. Il reparto prevede anche la presenza di interns quindi di giovani medici ugandesi che hanno finito il corso di laurea e attendono di andare per la specializzazione. Grazie al cielo abbiamo una rete di collaboratori all'estero da diversi paesi che periodicamente vengono a fare dei campi chirurgici e questo devo dire ci risolve qualche problema qua e là diciamo la chirurgia che personalmente non potrei affrontare o che il paziente non può pagare per essere trasferito per essere trattato poi altrove. Abbiamo sulle 20-30 operazioni alla settimana poi ci sono piccole procedure cioè quelle procedure che non neanche arrivano alla sala operatoria ci sono tutte le attività di medicazione delle ferite c'è l'attività di fisioterapia di sala gessi quindi tutti i servizi ancillari della chirurgia generale. La fondazione Ambrosoli dedicata all'opera di padre Giuseppe è nata nel 98 opera da quasi 25 anni è nata per volontà della famiglia e dei combognani per garantire e poter dare una visione di futuro a quest'opera perché potesse continuare. Non solo dal punto di vista finanziario le esigenze finanziarie dell'ospedale sono cresciute e stanno crescendo moltissimo ma anche dal punto di vista della collaborazione sempre con un'ottica che è l'ottica combognana cioè quella di sostenere il capitale umano locale le risorse locali perché siano loro in prima persona a portare avanti quest'opera perché abbiano le giuste competenze le giuste capacità per guidare le attività dell'ospedale e della scuola di ostetricia quindi l'ottica combognana, il valore combognano salvare l'Africa con gli africani che è stato quello che ha guidato anche tutta la diciamo l'opera di padre Giuseppe in vita è un valore che ispira tutt'oggi la fondazione nel proprio agire, nel proprio percorso Mia madre mi ha raccontato che c'era un dottore chiamato Ambrosoli qui ho studiato alcune cose su di lui molte persone venivano per vederlo perché a volte guariva solo con la parola senza dare neanche una medicina la sua reputazione dipende dal fatto che era un uomo di preghiera al quale la gente si affidava venivano da tutte le parti, anche dall'estero da tutte le parti perché lo ritenevano un uomo di Dio che prima di fare un'operazione si affidava a Dio come è finita la sua vita? io dico che padre, dottore Ambrosoli è un martire della carità perché quando è arrivato in Uganda nel 1956 vide le sofferenze della gente nell'area di Calum e quindi si è detto questo è il posto dove Dio vuole che io stia questa ragazza ugandese chiamata Lucia Lamokol si trovava qui nell'ospedale di Matagni a circa 100 km verso il Karamojo da quella parte incinta al nono mese purtroppo da tre giorni avevano tentato nel suo villaggio di far nascere questo bimbo che essendo in una posizione anomala non riusciva appunto a nascere effettuato il taglio cesareo nella notte la sua raggiunse un coma setticemico per la povera Lucia e stava morendo in quel momento il dottor Eric ebbe una grande ispirazione essendo un uomo di grande fede e un grande cristiano corse nella sua stanza a prendere un'immaginetta di questa immaginetta di padre Giuseppe e chiese il permesso alla mamma della Lucia e di Lucia posso lasciare questa immaginetta sotto la testa della nostra Lucia oramai moribonda perché affetta da coma setticemico ovviamente i poveri parenti in lacrime accettarono il dottor Eric tornò nella sua stanza per dormire qualche ora era mezzanotte il mattino dopo verso le sei e mezzo tornò in ospedale convinto di trovare Lucia morta invece la trovò che apriva gli occhi rispondeva quindi aprendo gli occhi e la pressione arteriosa era risalita ai valori normali a Roma cinque ginecologi in una seduta plenaria dopo aver studiato le carte fornite da dottor Eric dichiararono che era impossibile in un ospedale rurale non attrezzato come quello di Matan qui nel nord Uganda era impossibile sopravvivere al coma setticemico quindi conclusero per noi medici questa guarigione è scientificamente inspiegabile e nel 15 novembre del 2019 Papa Francesco emise il decreto di miracolo avvenuto per intercessione di Padre Giuseppe Ambrosoli quando ho letto la notizia che il dottor Ambrosoli sarebbe stato beatificato anzitutto era giusto che la cerimonia fosse celebrata qui in Uganda poi mi è stato suggerito di farla qui nella cattedrale a Guru è una bellissima chiesa una bellissima cattedrale sì lo so Guru è una grande città lo so ma per sottolineare l'importanza del suo amore per i poveri e la sua dedizione alla gente ho detto celebriamolo dove ha lavorato dove ha offerto tutta la sua vita quindi deve essere nella parrocchia di Calon ero così attratto da lui che ho sentito di dover essere un prete come lui quindi sono diventato il primo prete di Calongo molti di noi molti siamo venuti qui per le storie che abbiamo sentito su di lui quindi cerchiamo di emulare lo spirito che ha lasciato qui parlando con i pazienti e trattandoli bene perché in questo modo spesso riesce a curare le persone anche senza dare alcuna medicina questa è una bella cosa che ci è rimasta di lui quando si è ammalato avrebbe potuto tornare a casa per essere curato ma ha deciso di restare per l'amore che aveva per il suo lavoro per i pazienti nel produrre servizi e questo è l'amore che tutti cerchiamo di imitare dare lo stesso amore che lui dava ai pazienti fare sempre il nostro meglio così delicato ti salutava come stai come vanno le cose eccetera era una fortuna c'era una grande occasione incontrare lui parlare con lui perché è stato un uomo di Dio e lo dimostravo lo dimostravo anche negli incontri che faceva con noi con i compugniani con le altre persone l'ho sempre visto realizzato in quello che faceva sia come prete sia come medico lui c'era una forza veramente una forza spirituale interna a lui che a volte non appariva esternamente o non la faceva apparire però c'era posso essere testimone che di anni quasi ripeto dieci anni che ho passati con lui ecco non l'ho mai visto preoccupato per se stesso questo posso testimoniarlo proprio veramente lui il suo impegno era per gli altri e dopo non mi dilungo anche mi ha aiutato anche a me in questo a riscoprire il valore spirituale il valore della preghiera quando poteva la sera magari mi chiamava dicevo che diciamo un pezzetto di rosario insieme ma non ho mai insistito più di tanto e anche con gli altri medici che vedevo e magari non venivano in chiesa ha sempre rispettato anche gli altri sul piano spirituale però lui ha dato l'esempio anche in questo quindi credo veramente che se non avesse avuto una forza d'animo in sé e un affidamento totale lui poi era innamorato anche della spiritualità di Charles de Foucault aveva un libricino era come loro scritto da René Vuallon che era uno dei primi seguaci di Charles de Foucault e il come loro era come loro la famiglia di Nazareth vivere nella povertà nel nascondimento quasi nel rifiuto degli altri o nel non apparire ecco questo lui ci teneva e questo libricino ce l'aveva sempre là nella chiesa di Calongo nell'angoletto e quando lo trovavo qualche volta da solo era là che lo leggeva ecco quindi io penso se non avesse avuto una ricarica spirituale così forte non avrebbe potuto tirare perché sono testimone io di quante storie anche gravi abbiamo avuto morti in ospedale oppressioni da parte dei militari tante cose che l'avrebbero veramente abbattuto anche se fosse stato una persona che avesse fatto affidamento poco spiritualmente ma più sulle sue forze non ce l'avrebbe fatta penso un uomo buono non un buon uomo ma un uomo buono che davvero rifletteva in tutto quello che faceva la bontà di Dio l'accoglienza per tutti la disponibilità ad essere vicino a chi avesse un problema c'è una bellissima lettera che risale al XII secolo scritta da Moshe Ben Maimon medico del XII secolo pensate tu mi hai scelto per vigilare sulla vita e sulla morte delle tue creature io sono qui pronto per la mia missione ecco io penso che in questa stupenda preghiera del XII secolo c'è l'immagine di quello che fu padre Giuseppe grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti